Continua la lotta di GKN, gli operai non sono soli come non lo sono mai stati fin dal primo giorno. E' questo aiuto da chi doveva arrivare se non dalle pubbliche assistenze. Le ampas del territorio sono arrivate in fabbrica ieri intorno alle 19.25 per poi finire con una cena cucinata per gli operai. Stracotto e tanto amore. Le pubbliche assistenze nascono dalle società operai alla fine dell'Ottocento, sono portatrici e capisaldi di democrazia e di lavoro. E quindi questa vicenda è quantomeno emblematica rispetto a quello del nostro impianto valoreare. Quindi le nostre associazioni del posto hanno chiamato l'associazione della zona fiorentina che hanno risposto assolutissimamente presenti per testimoniare la vicinanza a questa fabbrica, a questi lavoratori e diciamo questa è una delle azioni ma siamo a disposizione davvero dei lavoratori per qualsiasi cosa. Una presenza importante quella data dalla protezione civile, è coinvolta fin da subito con le cucine da campo, le brandine e il supporto organizzativo. I lavoratori sono sempre stati parte integrante del sistema di protezione civile di questo paese e quindi il sistema di protezione civile di questo paese deve essere a disposizione dei lavoratori in un momento come questo. Noi pensiamo che la battaglia della GKN sia la battaglia di tutti perché come si può chiudere una fabbrica di questo genere si possono chiudere tutte. e quindi va difesa la Toscana, l'Italia, la democrazia e il lavoro. Domani una riunione, quella organizzativa alla Casa del Popolo di Quinto, fatta dal movimento Insorgiamo, nato spontaneamente a supporto degli operai. Stamani invece la visita degli operai di una fabbrica di Reggio Emilia, mentre nel pomeriggio verrà discusso un question time alla Camera, posto all'attenzione del Ministro Orlando. Stasera invece la grande serata di incontro con gli uomini e le donne del mondo dello spettacolo, guidati da Stefano Massini e Piero Pelù, con tanti video anche che saranno proiettati da parte di artisti e cantanti, anche loro GKN. La lotta non si ferma e anzi il cuore intorno alla GKN pulsa ancora più forte.